Soprattutto le donne scappavano con la borsa dall'ufficio per fare la spesa e poi tornavano furtivamente dalla porta è ovvio, 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 ovvio è così, è così, è così, è così è così, è così, è così, è così protestate pure ma è così è così, è così è così se non vogliamo riconoscere la realtà allora, è così è così è così è così se non vogliamo se non vogliamo allora, è così è così è così è così è così è così è così